Aspetta, andiamo in due case diverse Più tattica Ma dov'è la zona? Ehi! Andamola Prendiamo la moto del tizio Eh, ma è troppo rischioso Andiamoci a piacere, abbiamo tempo tanto Perché ogni tanto durano due minuti le zone? Ero E c'è una pietra in mezzo alla strada Guarda 105 C'è una pietra in mezzo alla strada, letteralmente Ma che cazzo? Di quelli che sono stanno attenti E ci prendono più Ho fatto game design, mamma mia Bello, Carly C'è Carly Ma che cazzo? Una pietra così in mezzo alla strada Ah, ma perché c'è un buco Ah, è finita la strada lì Sì, è finita la strada e c'è un buco Ma che c'è? In te giudicando i game design quando sono i veri esperti Oh, i veri esperti Non è che c'è un buco c'è una pietra Oh, andiamo qua a sinistra Da qua tipo Ok che possono essere poveri quanto vuoi in me Siccome minchia usare una pietra per bloccare una strada Che poi una pietra così grande Minchia, ci hanno costruito la strada proprio apposta Per... perché non possono spostarla Farla lateralmente Comunque c'è stato Che c'è stato Il senso che c'è stato davanti secondo me con la macchina Cioè con la moto che più ha preso la macchina è qui vicino Me lo sento Tagliamo da qua, fidati Ma sì, ovvio Tanto fra un po' Gnazzo aprirà la live perché gli arriva la notifica Ed è un fan vero È un van È un van vero È un van, dico, prendiamo È un vro Dai vandalizziamo questa... questa Volkswagen Non buchiamo Ok Andiamo a unire gomme Aspetta, c'è una padella Sì Prenomale Perchè così è chiuso la padella ma... Sanno sparà Andiamo anche noi sulla montagna questa partita E poi moriamo Eh Ci tocca eh, perchè siamo scopertissimi se no Ci andiamo qua tipo Mi sembra di sentire qualcun qui su a sinistra Boh La montagna non mi sembra vedere nessuno Ma stiamo sotto la montagna, non lo so È rischioso stare sotto la montagna, vero? Adio che la zona sta chiudendo Stavo guardando queste case qua a sinistra ma non sembra vedere nessuno Corriiii Corri ragazzo laggiù Nooo non voglio prendere danno Ok non l'ho preso Ok salgo, saliamo qua su Che bella strada tutta marrone, nera Occhio qua eh Da voi qua ci vedono tanto 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 Andando con mirino giù ma non vedo nessuno Ok c'è los leones Noi sono tutti quanti da quel lato Aspetta fammi controllare sulla montagna Ci sono tizi in quella casa 115 C'è c'è una porta aperta Aspetta 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 Non sparare eh Probabilmente c'è gente dentro No non ho visto nessuno dentro ma c'è Oh gente davanti a noi Dritto davanti a noi A 235 Arrivo 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 Mi ha visto Aspetta nasconditi 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 Nooo cazzo non ho beccato Ah ma c'è un... c'è un car Aspetta scendo da te scendo da te Sei nascosto E io più o meno Mi sembra che c'è smoccati Smoccati Eh non ce la farò mai Nel senso sono morto io Eccolo Eh cazzo Bello schifo Oh cazzo mi ha lanciato una cravatissima Ti è mancato ti è mancato ti è mancato Che crisi Easy E AK basta Non lo userò mai più C'è troppo in culo Ubu 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 Mi sa ce n'è anche uno dietro eh Comunque dalla casa E' close E' close Cura ti va Uno ti sta pushando ecco No non ti becca non ti becca Su 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 E' qua è qua E' close Sinistra probabilmente Ma dai basta Quante cazzo che la danno E' vicino eh Ce l'hai sopra probabilmente Mirlo lo senti? Sopra 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 Oh Oh no cazzo qua c'è a zona Ok non dimmi che quella è roma Ce l'hai appena sopra guarda Stai dietro l'albero Ecco Ognuno Ora se ti lo pusci oppure Ti curi Eccolo Eccolo E' qua sopra E' qua sopra Stai pusha ti pusha Vaieeh L'ha rianimato già Cazzo Quante cazzo le veloce Cazzo le veloce E' qua sopra Cazzo le veloce 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 Ma ha skillato Mi sono stato umiliato Cazzo le veloce Una bella maglietta Mi ha dato in realtà Mi è piaciuta Wow E' un M4 E' un M4 E' un M16 A4 Sporca di sabbia Wow E' quanti punti io? NA, eh si però fammi riconnettere Non vedo mica è crashato a caso Anche a me l'ha fatto riconnettere Non mi vedo che è crashato Perché ha detto il tuo sound Ah no che si è riconnesso Però non c'è più i suoni E non c'ho più la musichetta Procedi Mi piace io Ma c'è, ci sei? Ah no è una polo shirt Una polo mi ha dato rossa che carino No questa me la salvo Minchia tu non c'eri quando c'era l'8v8 vero? No C'era tipo l'evento Squadre da 8 con i rifle che si trovavano due volte di più Ok cecchini o rifle di... No no AR Ah ok Ah è bellissimo Mi è durato solo un giorno a me perché avevo visto l'ultimo giorno Bellissimo minchia La sera che ho la parte bella No Che io Facevo Chiamavo Facevo il leader Il in-game leader E mi ascoltavano Cioè Eravamo una squadra seria Mamma mia che turchi Non come quelli che non parlano Cioè c'erano quelli che non parlavano però mi seguivano comunque E alla fine abbiamo vinta Eravamo tipo squadra da 7 contro squadra da 8 Ho chiamato la tattica Uno viene con me Noi due pushiamo Voi cinque state là Guardate qui guardate là Ma Quello che ha pushato con me alla fine è rimasto uno v5 E l'ha vinta No Vedi La mia tattica era sufficiente a far esprimere meglio i singoli Dunque è veramente carino che abbiamo messo Che abbiamo iniziato a mettere modalità unica e cose così Dai almeno per variegare il gioco Sì Io vedo Non vedo l'ora che mettono tipo la modalità come in anche uno Z1 delle macchine No No fidati Le squadre da 8 erano top E io mettiamo dei tattici adesso mi sa qua di anche uno Z1 delle macchine no A me non ha caricato ancora il gioco Non so perché Sto caricando l'audio adesso Appena ci sei dimost Funzionando strano Ok ci sono Stavolta scegli tu Eh Però c'è anche il sento del patrino Dove andiamo? Non lo so Stavo dicendo lo stavolta scegli tu Ah ok Andiamo Qua Ok Devo farla tranquilla e vinciamo Dove cazzera Ok di qua Tu scendi qua Io scendo qua Ma io Qui a fianco abbiamo un monte nuovo nel caso se ci viene voglia Ah proprio per quello Troviamo le armi qua Andiamo a montenue O andiamo a power grid Non lo so Secondo me nel monte nuovo c'è meno gente Vediamo Non c'è nessuno Ce ne sono due Non c'è due Due persone Dai troviamo un arma veloce Andiamo a fotterle Power grid Ad esempio Power grid Nessuno Nessuno No Non ho visto nessuno Ma che cazzo Oh ci sarà gente Sono così accaniti a power grid Che saranno già scesi da mezz'ora È fuori una casa Siamo alla numero due Perché ci sono i poni piccoli Ho un 4x Sono inutile Poi A K Ho rotto il cazzo A K di merda Oh Ecco qua Almeno A K dai È troppo rinculo Perché trovo te con un'arma Mi fai munizioni dalla K Prendi se vuoi Io so solamente che devo imparare a usarlo Perché se no non posso giocare Che è l'unica arma che trovo Così vale Che davvero la K È molto difficile da imparare Parca puntata Difficile È un rinculo della Madonna Tu spari e vola via Fa Pum Pum Qui invece prendi l'M16 O l'M4 Spari e Sta fermo praticamente Anche a raffida Sta fermo quasi quasi What the fuck Mi ha tirato una legatona Oh Non serve il level 3 Meno male Stavo per finire lo spazio Andiamo Verso Monte Ok Ho lottato tutto Qua mi sa Sì Sì Ho lottato tutto Comunque ancora rosico per la partita di primo Minchia Potevo fare dieci volte meglio Ho fatto una cagata Dai io vado qua E poi vado al monte nuovo Sì Ho lottato Bene Bellissimo Divertente No lo sai che è bellissimo Un giorno ti porto No E' particolare Ma io arrivo No Bellissimo Cioè quindi io mi devo stare qua Due ore a guardare dei tizi che prendono Gesù No è troppo No mi piace guardare Gesù Angelo Ciao Ho detto ciao Ciao Angelo E' anche da Mi piace guardare E' come è E' come è stato bellissimo Un giorno di farlo No Boh Angelo sei cattolico No 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 sono Matteo No i cinesi sono buddhisti No Però vabbè il buddismo Mia madre è buddista La madre ad esempio è buddista Il mio padre è ateo Suo padre è ateo E' bello buddismo Mi piace tanto E' detto che il buddismo è bello No Sto scanzato E' bello Ciao è bello E' bello E' bello Bellissimo Bellissimo Non ci provate Oh c'è un mini qua se vuoi Ci sono anche 30 colpi Ti lascio pure un puntatore laser Se vuoi Sentò i proiettivi nel culo tra poco No Ok Oh ti ho messo il puntino Un caricatore esteso se vuoi per R Non ne ho R Bene Capà il drop Oh sarà lentato Sarà lentato Sarà lentato È drop È drop Rapido esteso per AR Ma è che Per cecchino Ah Ma ce l'hai no? Si È dentro Qua dentro Lo vedi Si si vicino al drop Beh più o meno Ma va dico Per cecchino L'hai preso tu no? Si Anch'io c'ho il mini Non so perché ogni tanto penso Che il mini abbia Modalità Non c'è Una modalità Automatica Però non è Perché Ha venticolpi Minchia Ho sentito qualcosa? Dopo sono tanti Ah va fan colori tu Io sono appena arrivato Aspetta Quando ti ho sentito qualcosa Ero lontanino Buonanotte Angelo Buonanotte Buonanotte No comunque no era bellissima No Così ho una visione migliore e mi sparo Quindi quello c'è l'hai il Ma i mini ti ne servono No grazie Quindi quello c'è l'hai lo zaino Uno No Ok ce n'era uno Rivaldo sul tetto Ma lascia fare ormai Non è vero Ma siete in Kosovo Ehi Siamo in Kosovo E dobbè? Sì in Kosovo Penso sia Spero sia basato più sul Messico Che su altro Eh Messico? Penso di sì Che l'ha fatto questo gioco lo sape Sì Che l'ha fatto Di produttori di giochi Di con il nome della compagnia Tutto non conosci L'ho Quindi Sop Passo un gioco di guerra Dai Beh dai Di chiamare così No non possiamo che mai Di chiudere E' tipo Hunger Games Dai Tipo guerra Sì da L'ha per tutto qualsiasi Adesso con quante persone stanno giocando 100 C'è nessuno cento alla volta Adesso Più importante la cosa Eh Angelo Ha preso quel coso bonus Ah tu l'hai preso il bonus Di 500 euro Eh da qualche D Ha già finito Da qualche D E li ha già finiti Ah ok Ascolta Mi da Ma tu quando torni a scuola Mercoledì? Boh Torniamo a scuola il 4 o il 3? Boh Eh mercoledì Cioè mercoledì siamo a scuola Mercoledì siamo a scuola Ah martedì no? No No Allora martedì Barbo ti porta alle poste E fai tutto Ok È un casino della madonna Comunque Ti avverto Eh? Ti avverto che sarà un casino Ma tu sei andato alle poste a farlo? Eh sì Online prima Poi alle poste a finirlo E ha detto che è un casino Comunque da fare E che hai quei due che sono atterrati qua? Cioè non ho ancora visto niente E ho luttato a loro Ancora io? Che poi sono uccisi nella parte iniziale Che poi qui vicino Ah mi stai nel piano di sopra sono Cosa va? Stai giocando tu con chi? Vediamo che sono con Angela un momento Angela? Neh E che è angeli? Mi so va bene Quello cinese che si è andato al negozio Eh sì E dove c'è scritto che si con angelo? C'è scritto lo so Oh 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 dietrima 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 Ha rotto un vetro Ha rotto un vetro da vede Arrivo È verso nord non lo so da qualche parte Ok Ok Ti ho conto che siete qui? Altre cento persone C'è altre novantotto Siete qui due con novantotto persone? Sì Milo Dove? Oh dietro questa casa Dietro questa casa Merda Mi ha guardato un secondo Mi ha visto Aspetta verso che lato? Eh 5 Nord 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 Dietro questa casa è gigante Oh porca puttana Arrivo arrivo Porca puttana Dove? 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 È sul È nel secondo piano Cioè Primo piano Sopra Finestra Morto? È pure lì ma finestra tutta a destra Aspetta vado a proteggermi meglio qua dietro sto muro Certissimo E poi l'ho visto E l'ho? Ero praticamente vicino alla cover Quindi sono andato a coprirmi Sto passando alla mia destra L'ho sentito correre sulla terra Qua a destra Ci ho capito dove va Ci ho capito dove va Ehi è la mia È verso nord Morto Dove sei? 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 Stavo fosse andando a salvare l'amico Invece si è buttato come un coglione Vai C'ho pure Sì c'ho pure Minchia sono pieno E voi? Sono pieno Sono pieno di bende io Io sono pieno di bende E a bende Non è che questi qua avevano qualcosa Ok qua sopra non c'è nulla Oh caricatore rapido per occhi di più VSS cioè Che merda Ma stai mi prendo paio di 9mm C'è una UMP Se non la vuoi tu lo prendi Prendi pure C'è un esteso rapido qua E un 4x Ti servono bevande e roba del genere Sì Allora guarda Te ne lascio Due E uno C'è la notte M16 Dammi subito starma Dammi subito l'M416 Oh scemi Dammelo subito Oh raccogli le bevande Mi raccomando Sì ma raccolgo tutto Dammi le mie 4x M16 Oh bello Guarda Guarda lo completo Praticamente Ma che sto aumentando la partita davanti C'è anche un SKS No Perché c'è l'MP con il silenziatore sopra? Cosa? Ma stiamo scherzando C'è troppo roba bella qua C'è anche un SKS Ce l'hai già tu? Eh? Tu c'hai già l'SKS no? Sì No c'è il mini Ah trefici mini No se c'è l'SKS no Che cosa c'è l'SKS no? Ma che cazzo Però non sto tizio io Mi c'è più no anche di colpi su Vuoi un 4x? No c'è già Una patella Ma che tesoro abbiamo trovato in questi due Vabbè 556 le prendo io Tanto che non servono Questo giubbotto Livello 2 È messo Marani fai passare Grazie Ah quindi ci sono 2 4x Vabbè da Veloce Ma non riprendi sti colpi Qualche c'è ne sono 5.000 per terra Eh ma anni 90 Cazzo sono Cazzo sono Cazzo rumore Vabbè io finito Anzi una volta Oddio la zona Andiamo a vendere una macchina Vado l'SKS Mi serve solo Poggia guancia E il pezzo di davanti Anche adesso Vabbè un pezzo di davanti Speriamo di trovarli Tutti e due C'è la macchina quindi Possiamo luttare Prendi questa casa La più vicina Non luttato Io Ho stato io Non mi sto neanche la macchina Un cilindro Ok qua non c'è niente C'è un buggy Io Lo vorremmo sul tetto Ma che dice qualcosa Ah ma qua sono passato io Ma che cazzo sto facendo Colpi per 7.62 Non suppongo Cioè suppongo che non ti servano Eh ormai no Il benzinaio l'hai fatto Il benzinaio No Ok luttiamo allora un po' Fdp Eccolo copri fiamme Guardi mi è sceso un colpo Visto la moto Mi sembrava un tipo Mario Stavo fermato Robbe 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 Ho già guancia Se ne trovi Dimmelo Eh trovarne Di palli Manguno Ah ma tu non c'hai il poggia guance No a me non serve neanche per il mini Ah ok si Andiamo Vabbè Vabbè tutta la strada è proprio dritta dritta per andare verso la zona Cos'è se prendiamo la moto Cioè tu prendi il baggio della moto Oh ma Cioè siamo a passo Passo di zona Andiamo a piedi Andiamo a piedi Andiamo a piedi Dai siamo a passo a zona Ah si è vero Ma io volevo usare la moto Una moto è una figata da usare Eh si All'ammazzarci Beh si Anno Più che altro la voglio vincere questa Quindi Questi atti di picchiazia non dobbiamo fare Adesso che l'SKS Pure è steso Rapido Poi ci saremmo potuti potenziare Cioè potenziali posizionare meglio magari Ma ci sentivano Vabbè Vabbè Se ci venivano dove si venivano Sì Mai credere troppo nelle tue abilità come ho fatto io prima Se io vedo la gente di normal riesco a ucciderla se la vedo Eh ma se loro vedono te anche Chiaramente A volte Sono in due che mi si trattano la Spiderman Sì Se sono in due invece che si trattano la Spiderman Si spor Che pian piano fanno vedere una volta a testa la testa Li spori in testa e muoio Quelli due erano troppo coordinati comunque Venti giocavano in LAN Uno col cazzo nel culo all'altro Mia cazzo nel po' già guancho c'è tutto full Nooo non voglio prendere danno Ok Via armi dalla mano Eh buongiorno Ora l'ha tolta Sì perché magari vedo gente e la sparavo Oddio È peccalissima Nooo non mi posso girare e guardarla Nooo male Valore Finito Questo Come Poi Esatto Per detto davanti c'è una padella anche qua realmente livello 2 come si vedeva un'armatura livello 2 messa bene perchè la mia è un po' del mio giardino oh c'era qua qua dentro c'è uno scappo pacco finestra 12 da toscana m4 e io comincio ad andare, guarda quanto allontana la zona ok il giubotto ho trovato dai andiamo minchia ma come cazzo ci arriviamo? a peres ah vabbè abbiamo in un minuto ce la si fa io non so perchè ho il mini che tanto l m4 va benissimo è arma a distanza quindi vabbè lo faccio fin dai uso il mini almeno posso dire che sto usando qualcosa di a quantità anni fa qui è un danni m4 praticamente che senso ha usare il mini perchè molto più stabile ah guarda io lo butto il mini dai dai lo tengo giusto per pro uso l m4 dalla distanza il mini lo uso giusto se sono disparato e non ho più colpi e c'è gente che mi sta pushando in quella situazione usare un mini abbiamo tempo per luttare è un no o un si? no ah ok perfetto per dire io corro no 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 queste pietre sono proprio piazzate con una pratica veramente diverso mi chiedono attraversare che è tutto in culo ai 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 io direi di andare qua a sinistra comunque io direi che se trov' una macchina la prendo oh la sono chiusa adesso Andiamo qua a sinistra, dentro quelle case Mili, ce ne sono due sulla montagna Non puntano a noi E' dietro di noi una macchina Prendiamo una macchina, prendiamo l'agi Ciao, ti si vanno Ah, le fa Ai 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 Vai, parti, parti, parti Sì, pink tea Il drop Ma lo portiamo sulla jeep Due drop Non penso che ci convenga No, ce la portiamo proprio sopra la jeep Non ci arriviamo, ci arriviamo troppo in anticipo Non mi so neanche da dove stanno sparando Non lo vedo più Sopra Non lo vedo più Eh, alterato Eh, no, lo vedevo più Ma come grande la zona Ho visto che c'è il drop fuori dalla zona? Sì Vado a prenderlo Oh, scemo Oh, ma sono pazzi questi qua Eccoli, ma sono dietro una pientra Ah no, sono dentro un van Sono quelli del van Corri, corri, corri Sono distratti, sono distratti Sono distratti a quelli del van Ma che cazzo Ma che cazzo Mi ha fatto un edice Dentro la macchina Da chissà quale distanza In effetti potevo mettermi nel posto di passeggero Al posto di stare dietro Oh, cazzo Va davanti Sì Eh, copriti Kajjan deme Is吗 O Ismake Ha Wah hunt Ho 五 Ho Io Ho Ro Pass Ho 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 U Io No 싶 Stretch gunsаж Ma che cazzo? Cosa? Perché c'erano due così? Al mio drop Qui si sono moltiplicati tipo Perché lui era uscito da dietro la schiena Quindi era scopertissimo Si sono un po' doppiati Adesso gli ho detto dove mi ha beccato sto tizio Cosa? Era lontanissimo Mi ha fatto un accident di card Da tipo 200 minuti No di più di 200 minuti 300 minuti tranquillamente Che cazzo? Guarda Che pescata casissimo Wow io li beat Mi hanno ucciso in un modo proprio E' peccato Porca puttana Oh ma ce l'hai fortnite Guarda che fortnite Guarda che fortnite Non riesco più a riconnettermi Non manco a me Finchia ma manco a dire che questa modalità è bella Manco a dire che la nuova modalità è bella E quindi c'è tanta gente Non mi sembra tanto tanto bella Devente Quando c'erano la squadra da 8 Quanta gente c'era eh Dove vincere seriamente? Mettiamo la terza persona Ah ok allora si Cioè la terza persona giocano quelli Scarsi Perché hanno paura della prima persona Oppure quelli forti che vogliono fare Scacciare quelli scarsi che Oh ma la terza persona ha vinto un casino di volte Cioè perché proprio è facile Già c'è il vantaggio della terza persona In più ti trovi quelli scarsi alle prime armi E in più ancora ti trovi le pussies Che giocano la terza persona Proprio per il vantaggio della terza persona Perché hanno... Sono pussies E poi dai è più bello Dai è più naturale It's more... È old school capisci? Che poi io quando scopri di casa vedo in terza persona Ma che naturale Che sai che riso Un cazzo Pezzo di miei adò Sons che cazzo stanno dicendo calcolare un culo schmalato oh mi piace questo ponso ma perchè è sempre una mappa vecchia cioè nuova non sto scherzando niente isola dai cioè finiamo sta roba in fretta uccidiamoli in fretta dai no io mi sa mi prendo queste solitamente c'è tanta roba e siamo ritardissimo io stavo cantando andiamo là va l'ho puntato no io ho troppo accaduto vabbè vaffanculo vado anch'io a peccato ne voglio tu hai già aperto il paracaduto ma che cazzo stai facendo non l'ho aperto l'ho aperto adesso what and angry of kills oddio quanta gente vero voilà manca pochinki c'è così tanta gente ok queste case sono da sole dai sono libero tizio tizio scendi da quella casa tizio tu sei morto se ti bacchi tizio sei morto se ti bacchi ok bello il medikit però io vorrei un'arma e una persona mi basta mi accontento ok questa mi sta mi sta cazzo di porta figlio di puttana e mi ha chiesto 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 tardi era già morto l'avrei risparmiato giuro ok dai vado a cercare il tipo vaffanculo non occorre niente por sana ho uno zaino cacchio raccolto la terra e che col mini ci devo andare e che aspetta io ho un medikit completo ma so scemo ma il medikit aspetta 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 no merda mi nascondo mi nascondo no niente morto gli ho spilato una raffica di di cazzo chiama di microsi in faccia che l'ho visto l'ho fatto torrrrrr non ne mettono in niente mi chiedo che vaffanculo non subire danni ce ne ho uno qua no 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 Perchè è stato fermo un'ora e mezza? Comperate la coglione È stato fermo così, assumendo colpi Gli piace Senza pietà Ok, dai Vado a uccidere tutti in questa cazzo di città di merda Ok, adesso vado a uccidere tutti in questa cazzo di città di merda Questa città ha bisogno di qualche scolacione La padella Tu, uno, dov'è l'altro? Eh, Max, metti Dov'è? Posso camminare qua? No, non me la sento Ecco che è ucciso Ma va la scala Uh No, no, no What are you bitches? Fatevi uccidere, dai Troie Ho perso completamente orientamento Uy, no, dall'altra Tutto questo non ho trovato milini, però Guarda, guarda C'è un'llo Oddio E' qua Da' ho rientrat What? Woo Ma da dove? Merda, non li vedo Ma che cazzo Che sarà un mirino, cazzo, se c'ho un mirino o sono tutti morti? Oh, ma ce lo compriamo, Sea of Tears Eh? Sea of Tears, ce lo prendiamo Perché? È bello, dici È carino, però è da giocare tipo in 4, 5 Eh, a trovarle Però 4, 5, secondo me si spacca bene Cioè, 4, 5 ci si perde molto, secondo me Perché è uno a guidare, 4 cannoni E così si fanno le peggio battaglie Quante stanno pushando queste? Dai ti prego, non cade Nooo Ello Ello Dove è l'amico tu? Dai, mettiamo fretta l'amico Uh L'ho rimesso a KO L'ho ucciso Hai visto? Questo è in peace per due, poverino Menchia, bellissimo il coso, come si chiama? La molotov Ma come è seduto? Ma non è che c'è voluto? Sì, lui lì Sta donando mentre ha quegliere cose Ma la molotov è troppo up Oh, non esistono mirini in sto gioco Oh, due perle, mia di niente In sta partita mirini proprio Ok Ma che cazzo fai? Oh, grazie per il 4 hopper Hai sentito? Hai sentito? No, cosa? Ma come l'ho ucciso, vado Uh, uh Dai, chi ne vuole altro? Oh, la zona si sta chiudendo Guarda Sarà già lì campata la gente Ne avrò dietro un paio, probabilmente Tanto continuo a fare scienza No, perché c'è davvero gente che studia In queste vacanze Sì, sei l'azzolito Oh, l'azzolito Dai, non sembra così difficile vincere questa Se non fosse che sei morto Hmm 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 In te Sfamando il bot Ma che cazzo fai carly E poi se in palla mi fanno pagare Ah 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 Gente mi fa pagare cose che rompo Ah ah Secondo me ce n'è dietro C'è quello da Perrado che non mi ha ucciso Ma prima di subito Otto No Perciò la mia occasione Anche perchè la zona La zona è molto vicina C'è niente a sinistra Ma che cazzo Ah non me l'abbela cercata Cioè No già muoiono da soli questi A parte che C'è una macchina lì No vado a piedi Pugnino E' una buco Te la buco Non ho punte Mi servono punte Merda Pugni I pugni I pugni non fanno rumore Oh ma me l'ha cercato allora Di avvertimento E' vero che sono in scuo Cioè sono in duo E' che se lo ricordavo E' un inseguimento Che stile Wow Qualche inseguimento Guarda Guarda C'era un'altra Oh merda E' che saltano sopra la sword Eccoli Bravo C'è un movimento E mi sto preso danno Eh Oh compensatore La zona Corri Corri No Mi servono le sue cose La granata Questo 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 Ciao Poi curandoti all'infinito Poi curare un bel po' Ah Dai Dai oh Che cazzo Ok Ho Ho 13 medic kit No Bello Melli anzi No Ti tengo d'occhio Mi hanno visto Ma me la cercate così Sai cosa Ma vado per ucciderli No Se non ci metto troppo Devi prendere la padellata Fai prima Spai ma vicino E che cacchio sono Qui tutti col silenziatorio Non so giù Comunque quei due sono scarsi Quindi Non ho neanche preoccupazione Che mi spari Chi è che si ferma in mezzo lì A guardar baciarsi Cioè Vedo che ho il silenziatorio Me lo smetto Ma dove cazzo li trovano Sui sti silenziatori Oh Sono ripartiti Ma se le ho buccato la gomma Ma dove cazzo vogliono andare Che le ho buccati la gomma Ma Che manovra Oh che manovra Oh che manovra Che ho fatto una bella manovra Che manovra che ho fatto Ma stavo scazzando Ma è una persona No La che me sembra Hai fatto un quick scoop Su una persona sdraiata Eccolo Eccolo Ok C'è il giubbato a livello 3 Oh C'è una Senta la pietra Oio E' il compagno di sicuro Quello là Ma non è che c'è un compensatore Non capisco Ma la ragazza stia sbarando Ah Eeeh Polpacci Cazzo è What Non lo vedo l'aereo Oh Mi torna indietro Questo le schiva Ti panto in mezzo alle gambe Poi Non è ancora andato giù Ok L'ho visto Lo vedo Lo vedo Non è ancora andato giù Non è morto Ok 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 Eccolo E' a posto E' altra stavano sparando da dietro Beh si Per quello Volevamo prendermi in posizione un po' Almeno prendermelo qua C'è altro Non è che c'è giù Poi Appena ho aperto la porta Ma è morto Adesso si è buttato giù Ma sarà morto Guardate che l'avevo Vedo Eccolo Oh è lui La riannima Eh si Eh muori ora Oh E' morto E' morto E' morto Uno è morto Eh l'altro Avrà uno di vita Dai Volevamo 3,2 E' un Faccio di precisione Da risporgiti Da risporgiti Ecco 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 Dio al carro E' morto E' morto E' morto E' morto se mi preoccupo più di qua che ti dà no ma da qua non penso, da sinistra forse proprio qui ti sono arrivati così oh 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 eh da sopra mi sa si è sopra mi sa da qua non li vado Melli? dai anti-shot devi muovere però loro no anzi no anche loro si perfetto guarda mica mi hanno visto faccio incredibile della granata eh non ce la farò male qua ma non è l'albero ma sono ancora l'albero dove stanno guardando ma che c'è uno qua dietro sono due qua due qua sono sei quattro cinque sono altri tre c'è gente in macchina ok sono tutti là sono tutti là ecco appunto eccoli più pericoloso lo sdragliato è morto se lo becchi basta un due headshot nooo adesso posso vedere come mi ha ucciso quel tizio che gli ho sparato nooo incrusi in faccia nooo sono stato uno stupido qua che paio sono morto così no mi sono ucciso questo è mi sono suicidato ok mi sono suicidato ma quanta vita aveva questo no mi sono suicidato qua mi sono suicidato sta caricando vediamo mi sono suicidato oh l'ho pure detto l'ho pure detto non facciamo cose stupide ho fatto la cosa più stupida al mondo ripiccare dallo stessa posizione poi mamma non gli ho fatto neanche tanto danno che coglione sono stato madonna cioè solo a ripensarci che coglione davide davide reconnect ma che coglione che sono ok povere lì cioè io vorrei spararmi in questo momento dai che coglione ma è legale perdere per sta cagata qua ma si cioè allora avevo 15 opzioni letteralmente potevo piccare di me e non uccidere quello a terra potevo curarmi potevo aspettare potevo corrermene via potevo piccare l'altra no 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 ripicco manco tutto e muovi bello carlì che coglione che coglione che sono comunque davide dimmelo coglione dillo cosa 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 che sono un coglione l'ho detto ma dillo più forte sembra che non sono un coglione eh grazie che schifo che faccio madonna cioè io mi guardo allo specchio che dico ma sto schifo come cazzo è nato perché sono nato oh merda no ma porca puttana cioè carlì lo che continua a correre a 13 mesi chi t'avevo cioè io potevo pure spararmi una sega dietro con la pietra no allora il coglione potevo vincerla no Davide aspetta i 10 minuti grazie